Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del Picker 550 di Geotech. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il Picker 550 di Geotech rappresenta un eccellente compromesso tra qualità e prezzo, progettato per garantire prestazioni elevate, si distingue per la sua versatilità. La sua costruzione robusta e le componenti di alta qualità ne fanno uno strumento affidabile e duraturo. Grazie al manico telescopico, il Picker 550 raggiunge una lunghezza massima di 3,10 metri, offrendo all'operatore la possibilità di lavorare agevolmente anche con alberi di grande altezza. Le bacchette in carbonio, lunghe e resistenti, penetrano in profondità tra i rami, facilitando la raccolta anche in presenza di chiome folte o non potate. Il movimento oscillatorio laterale lo rende altamente performante su tutte le varietà di olive, assicurando una capacità di raccolta che varia tra 80 e 120 kg per ora. Il cavo di alimentazione, lungo 10 metri, offre grande libertà di movimento, mentre il peso contenuto di 3,4 kg, escluso il cavo, ne facilita l'utilizzo anche per lunghe sessioni di lavoro. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.